è facile smettere di fumare se sai come allora voglio dirvi la mia esperienza io ero un fumatore mi accorsi che le sigarette stavano diventando troppo il fulcro diciamo della mia giornata stavo arrivando a fumare due pacchetti di sigarette e mezzo allora mi dissi basta voglio liberarmi da questa schiavitù e quindi mi approcciai col metodo easy way quello di alancard e trova il film in inglese perché in italiano non era reperibile ancora però adesso ho visto che c'è su amazon c'è anche il libro e quindi feci il metodo della visualizzazione vedere il mostrino dentro di me il del lavaggio del cervello perché praticamente quando quando fumi tu hai un lavaggio del cervello che pensi che la sigaretta la sigaretta ti diminuisca lo stress in realtà è quella che ti dà lo stress della che poi ti toglie la sigaretta c'è un serpente che si mangia la coda e quindi io l'ho provato questo metodo e sono un felice non fumatore perché poi dopo che smisi inizia a risentirmi più felice anche il sapore del cibo anche i colori del mondo mi sembravano più vivi e poi siccome risparmi quando smetti di fumare risparmi un sacco di soldi quindi pensi come riutilizzarli quindi puoi fare più beneficenza o che ne so farti premi perché come tu combatti la scimmia da sigaretta diciamo quindi come combatti la scimmia se tu non ha non l'accendi quei soldi che avresti speso per comprati le sigarette che ne so fai beneficenza oppure ti fai un premio un regalo o te li risparmi ti fai un viaggio io ho deciso di iniziare a studiare per diventare un istruttore di tai chi con i soldi che risparmiai dalle sigarette ecco me li misi da parte perché il discorso delle sigarette tu che lavori o non lavori tu i soldi per comprare le sigarette li trovi sempre quindi la realtà è questa ragazzi chi fuma ha il lavaggio del cervello quindi il libro serve per togliersi questo benedetto lavaggio del cervello realizzare che che noi possiamo liberarci trovare la libertà sentirci ma io dico un 80 90 per cento più felice rispetto a quando uno fuma cioè chi fuma si dimentica anche questa situazione di libertà insomma e quindi ti senti anche felice come prima di non fumare ritorni ed è veramente facile io ho sentito fumatori che mi dicono eh ma forse perché tu fumavi meno di me perché fumi da meno tempo no non è questo chiunque fuma ha il lavaggio del cervello quindi l'unica maniera per per smettere di fumare e capirlo è usare il libro o guardarsi il film e quella è la chiave la chiave per togliersi il lavaggio del cervello e questo ci permette di vivere una vita più felice più sana di risentire i sapori di risentire anche delle sensazioni che che si che si perdono quando uno fuma ecco questa è la mia esperienza anche quando smisi di fumare ritrovai fiducia in me anche nelle relazioni perché poi c'è anche lo stigma sociale di cui ti parla sia il libro appunto che il film c'è lo stigma tu pensi che le sigarette ti diano una vita sociale in realtà il contrario tolgono vita sociale e quindi il miglioramento è veramente meraviglioso perché poi quando tu decidi di non accendere la prossima sigaretta perché la prossima sigaretta è quella che ti di fronte alla domanda io voglio essere fumatore o non fumatore quando ti accende la prossima sigaretta decidi di essere fumatore quindi quando non l'accendi tu sta decidendo di non di essere non fumatore e quindi la la sensazione di quella fame lì la scimmia di sigaretta una volta che capisci questa chiave è quasi piacevole affrontarla e quando tu non la non perdi questa battaglia interiore allora ti senti gratto e anche ti senti orgoglioso di te quindi ritrovi fiducia in te stesso e tutto un lavoro che ti dà fiducia a smettere di fumare e quindi questo poi ti fa sentire più in pace anche parlare di sensazione di pace con i fumatori quasi li irritano lo so perché le sigarette tolgono anche la pace il discorso è qui io adesso vi lascio il link perché ho trovato il film sia in inglese che c'è ancora su youtube però c'è il libro in italiano vi lascio il link ok allora buona buona come si può dire vita buona vita ok ciao